Regali? Sì, ma l'insegna dell'austerity. I rincari continuano a preoccupare cittadini e imprese e così in tanti si dicono pronti a ridurre al minimo anche le spese per le prossime festività. Credo che questo sarà un anno di austerity. Aspettiamo il nuovo governo se propone qualcosa per risolvere i problemi immediati, innanzitutto l'energia. A Marocale poco, quest'anno poco, siamo in crisi. I regali non spariranno, però moderati quest'anno, anche per rispetto a tante persone che non hanno nel lavoro. In più dobbiamo movimentare un po' il commercio, dobbiamo aiutare anche loro, quindi far sparire tutto no. Ci stavamo pensando e stavamo guardando apposta le vetrine, cercheremo di fare il giusto, senza esagerare. E dunque si spera comunque di garantire, almeno ai più piccoli, il classico dono natalizio, anche per sostenere il commercio, ma con gli aumenti le risorse da dedicare ai regali si prospetta che siano ridotte rispetto allo scorso anno. Qualcuno si farà, ma non come l'anno scorso. Però vediamo un po' prima il budget familiare qual è. Si faranno comunque, però vuol dire che saranno più modesti. C'è chi ha programmato già un budget per le prossime festività e chi invece, almeno per il momento, ha deciso di rinunciare al classico cadù sotto l'albero. Non credo più di 200 euro. Sceglieremo qualcosa di più economico. I budget sono sempre quelli, ma con quel budget vanno un po' rifilati. Non ne facciamo quest'anno di regali di Natale. Tanto basta volersi bene. Grazie.